Buonasera, buonasera a tutti, diamo inizio a questo live del nuovo videoclip di Gioele, ragazzi si parte, vai! Buonasera a tutti Ragazzi continuiamo le scene di questo Roan a mare, buongiorno, stanno a fare i video Ragazzi siamo nel mezzo di questo videoclip di Gioele, come fa la Neoviu? Deve essere sincera, vi piace Gioele? Sì, no 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 in mezzo a tutta questa compuzione che stavo facendo un videoclip di un altro e stavo una guerra c'è un macello allora mettiamene una patate allora noi lo facciamo con tutti gli artisti e loro vogliono ascoltare un pezzo del tuo brano un pezzo del tuo brano ce lo canti un pezzo di certo un piacere posso iniziare io io vado via non posso sopportare è una voce e te conosco buono queste mani ti piace farti corteggiare mentre sa che me ne muore e vado via la ragazza porta a presse che stiamo a lingoni mi ha domicilio ragazzi ascoltate la buona musica lui e quella di scelle passa un'ora e torna a pezzarci quanta rabbia dentro al mio cuore poi ripenso quelle parole non ti nascondere è lei l'attrice principale di questo videoclip ludovica no ti devi fare vedere tanto ti viene un tuo video ludovica io ti faccio un commento sei stata grandiosa ragazzi lei è ludovica dove la stare sincera ti piace cioè le sì o no? Sì Sì come siamo? come stiamo andando? tutto bene ragazzi stavo proprio calibrando il Gimbal posso dire una cosa? posso dire una cosa? tu non so ne cari, toni d'Antoni a me lo ne ho viva e a me lo ne ho viva che buona è molto bello toni d'Antoni ma quando mi rispia io con l'aspirazione veniva tutta la motela ragazzi finiscono qui le riprese del nuovo videoclip di Joelle dal titolo io vado via ragazzi finiamo ciao 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 ciao